Buonasera a tutti amici, siamo qua con Stefano Bertolotti, grande batterista, drum per gli americani. Abbiamo appena effettuato un concerto ieri sera con la Randy Thompson Band. Stefano ci porta sempre questi grandi artisti americani, quindi lo devo ringraziare prima di tutto e volevamo spiegarvi un po' come mai Stefano conosce tutte queste band americane e ce le porta qua, con nostro piacere, ma come mai hai cominciato a fare queste cose, a suonare con loro, a portarceli? Sì, allora nel 2000-2001 suonavo con una band che si chiamava e si chiama perché esiste ancora, Fabrizio Poggi Cichemambo. Il leader di questa band, Fabrizio Poggi, aveva già dei contatti in Texas, quindi conosceva molti musicisti e quindi tramite lui ho conosciuto un sacco di cantautori, musicisti appunto texani e non, e abbiamo iniziato a collaborare. Ecco perché oggi sono ancora qui e sono entrato un po' in questo giro. A noi fa molto piacere perché conosciamo tanti texani anche noi, ci piace questo genere di musica e quindi ringraziamo Stefano di poter mettere a conoscenza di tutti gli italiani questa cosa perché il country sta entrando fortemente in Italia e quindi speriamo che si sviluppi anche grazie ai personaggi come questo. Grazie mille a voi per l'ospedialità. Grazie mille a voi per l'ospedialità.